Ciao ragazzi, siamo a Crilunno oggi e siamo a Pesca in prova al classico allenamento. Oggi vi parlo di uno spoon molto spesso, ovviamente non capito e non apprezzato, ma c'è una storia logica ben precisa, che è l'ice cake di casa Valkane. Io in questo caso sto usando l'1,6 grammi, oggi è una giornata abbastanza lungolosa, ovviamente quindi sfrutto della poca luce che arriva e l'amplifico con un colore metallizzato, un verde accesso davanti e un oro dietro. Questo è uno spoon che io vado a controllare con una Dyslave 61 LH Black Spine, quindi la classica panna da ricerca tubular, e soprattutto vado a controllare con un Ester Torai da 0,4-1,6 litri. Questo è uno spoon che vi faccio vedere come lavora, è uno spoon che ovviamente anche a recuperi molto molto lenti, ruota su se stesso, quindi crea un movimento in acqua veramente veramente interessante, quindi mi offre tante possibilità di recupero. Vi faccio vedere semplicemente tenendo la canna ferma, si vede anche a filo fermo praticamente come gira in maniera molto veloce su se stesso. Quindi in questo caso, questo è il lago ovviamente di solo pesce sanziale, è un pesce che si abitava di più di 5 mesi, e oggi sono più di 11 persone pesche, quindi pesce con un sacco l'aria cambiato, pesce molto spalizzato, molto difficile, e si trova, si piazza ovviamente per la troppa pressione di pesca, come per il stesso animale, l'unico rifugio che ha diffondato. Io vado a muovere con un volante del genere, l'unico in questo tipo di movimento, lo vado a muovere a canna alta, questo è il filo che mi dà il giusto contatto con l'unica, è una canna straordinariamente sensibile come la 61 Wellacra, anche spai. Lo vado a muovere a canna alta, proprio in maniera molto molto lenta, controllandolo quasi da vertical, quindi con recuperi bassissimi, lo vado a sbanchettare, riparto piano piano, proprio per sfruttare questo movimento piano. ovviamente lo lascia affondare qui, 6-8 secondi, un lago legge, questo lago è profondo, 2 metri e 70. Se mi vado a cercare il contatto con lo spodina, questa rega, lì sovrappola lentissimo, con la canna in questa posizione. Vado ad alternare dei movimenti, un movimento del genere che serve a richiamare il pesce. di città, di città, di città, di città, di città. man mano che mi avvicinano la sponda ovviamente vado a abbassare la canna e vedete come come accogliano il tuo pisamento facciamo un altro lancio ha una buona lanciabilità perché essendo stretto ovviamente è lungo quindi taglia bene l'aria quindi riesco a lanciarlo anche un gramme 6 riesco a uscire molto una grandissima mano me la dà l'essere ovviamente perché è un essere perché proprio quando vado a fare questo movimento sento il rondurante che batte proprio sento il movimento del rondurante sulla canna è questo quello che mi fa capire quello che sta succedendo in acqua posso alternare anche delle pause in modo che faccio riscendere l'ambulante sul fondo e ricomincio con il solito movimento è questo quello che mi fa capire Grazie per la visione 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 Grazie per la visione